La nostra settimana di allenamenti è stata più lunga del solito perché abbiamo avuto un giorno in più a caso della partita giocata al sabato, appunto, pre-Pasqua. Quindi questo ci ha aiutato sicuramente nel recuperare quelle che sono state le problematiche fisiche dovute alla partita di Trento perché, come ben sappiamo, anche comunicato all'esterno, Vildera, Ruzier, Bartley e Spencer hanno avuto diversi acciacchi, ognuno diverso, l'uno dall'altro, che però, diciamo, lungo la settimana siamo riusciti a recuperare e, diciamo, da metà siamo riusciti ad avere il rostro al completo per riuscire ad allenarci e a preparare quella che poi sarà la partita domenica contro Varese. I ragazzi sono stati bravi, soprattutto nei primi giorni della settimana dove, appunto, non essendo al completo, abbiamo dovuto svolgere un lavoro leggermente diverso dal solito, ma comunque con la solita applicazione siamo riusciti a far fruttare ogni singolo giorno dell'elemento che abbiamo avuto a disposizione. Chiaramente la notizia di Varese di questi giorni ha scosso, immaginiamo, loro, ma non solo loro, tutto il movimento, ma per quanto ci riguarda in questi giorni il nostro focus deve essere su noi stessi perché dobbiamo pensare a quello che è il nostro obiettivo e sappiamo che davanti a noi abbiamo cinque partite che devono essere interpretate come cinque finali. Sono cinque possibilità differenti per portare a casa due punti e noi abbiamo bisogno, per primo possibile, di far sì che il nostro obiettivo venga raggiunto e quindi senza guardare in faccia a nessuno dobbiamo semplicemente scendere in campo facendo il nostro meglio contro chiunque. La prima avversaria, appunto, di questo finale di stagione sarà Varese, una squadra che da inizio anno sta esprimendo gioco di alto livello, hanno il migliore attacco del campionato per punti segnati a partita e di conseguenza un applauso va fatto sicuramente a Cosbrasio e suo staff perché sono riusciti ad imprimere una grande identità alla squadra e noi dovremmo essere bravi, appunto, a limitarli soprattutto in fase di transizione dove loro riescono ad esprimere tanto di quello che è la loro potibilità offensiva. Ci mancano, come dicevo prima, cinque partite e quindi siamo conici noi che dovremmo scendere in campo giocando ogni singolo possesso al 110%, anche perché sappiamo che di queste cinque solo due purtroppo saranno disputate all'Enesdom davanti al nostro pubblico e quindi non vediamo l'ora di poter iniziare questo percorso davanti ai nostri tifosi e vi aspettiamo super numerosi come sempre, super calorosi come sempre, pronti ad affrontare quella che sarà sicuramente un'altra battaglia da vivere insieme dal primo all'ultimo minuto. Grazie. Grazie. Grazie.